Pier Paolo è un mercato 2017 abbastanza tranquillo, se dirci su quali certificati possiamo puntare per il 2017 e magari anche qualche previsione per il 2018? Sì, un anno che si sta concludendo con una volatilità molto bassa, un andamento costantemente rialzista, quindi per chi crede che si possa continuare a salire ancora fino a fine anno direi che certificati anche con barriere non particolarmente lontane possono garantire un miglior rendimento. E quindi credo che si possa continuare su questa falsariga del 2017 puntando appunto su strumenti in grado di riconoscere rendimenti anche con bassa volatilità. Grazie